ciao a tutti quanti benvenuti in un nuovo video allora questo video vi dirò secondo me dei semplici comunque dei tip and tricks come direbbero americane comunque dei piccoli consigli su come fare a scegliere il colore di un fondotinta sia che sia un fondotinta che acquistate in negozio e che quindi potete in qualche modo vedere sia che lo vogliate acquistare online perché magari c'è un'offerta vantaggiosa perché non è un marchio rivenduto negli store qui in italia e via dicendo allora la tips che vale per l'acquisto di fondotinta online è anche un validissimo sistema per acquistare un fondo d'interno negozio cioè sul sito di temp talia c'è una funzione se mi ricordo vi metto il link diretto ma se voi cercate su google temp talia foundation matrix vi esce fuori cioè l'adorabile christine di temp talia ha fatto sta sorta di enciclopedia dei fondotinta vivendo lei in america per noi un vantaggio perché quando viene lanciato un nuovo prodotto in italia in italia normalmente è stato già rifornito in america ovviamente non può valere per marche tipicamente italiane vendute solo in italia o che comunque non vengono vendute all'estero uno dei problemi che però si può l'unico problema che io abbia talvolta riscontrato è questo che la maggior parte dei brand commercializza fuori dall'italia in america molte più colorazioni di quelle che arrivano in italia quindi a volte vi può essere consigliato un colore che non viene rivenduto in italia il che può significare che a avete una carnagione considerata non considerata nel mercato italiano e che quindi anche la colorazione più chiara in commercio per voi può risultare troppo chiara o quella più scura può risultare non abbastanza scura o o niente c'è fondamentalmente a questo però va detto che nel sito di di christine sul fondation ma difficilmente esce un unico colore sia per i brand che distinguono ad esempio il sottotono sia perché in alcuni casi c'è quello che è leggermente più chiare quello che è leggermente più scuro io lo uso ormai da tempo da anni direi e mi sono sempre trovata bene per quanto riguarda online io che cosa faccio allora questo sistema funziona così voi inserite il fondotinta nella colorazione che avete tipo io normalmente come base do l'nc 25 dello studio fix di di mac e se voglio cercare tipo quando c'è l'offerta su qvc uk del kit che conteneva il rainforest of the sea di tart io sono andata a cercare direttamente questo fondotinta perché era uno strumento che avevo già utilizzato per vedere quale colorazione mi dava mi ha dato questa colorazione che la light neutral e obiettivamente il colore mi va benissimo come contoprova quello che potete fare inserire oltre il fondotinta che voi sapete potete fare mi sembra il paragone addirittura tre io ho messo questo con il mac nc 25 dopo di che invece del mac ho messo l'altemix serum di bourgeois che io ho nel colore 51 se non mi ricordo male si light vanilla e mi dava sempre questa colorazione talvolta nei casi in cui mi da più di un colore valido ho capito che il colore leggermente più scuro che per me è quello che il più delle volte è assolutamente perfetto quindi per l'ordine online potete fare questa cosa più fondotinta avete in casa e se probabilmente state guardando io che ho un canale su youtube magari ce n'avete già di fondotinta per capire se anche la vostra carnagione rientra in questo range c'è una sensazione non ho mai avuto problemi tutte le volte che ho scelto un colore in questo caso in questo caso in questo caso specifico no però questa è la seconda confezione che uso ma regalano mica che conosceva la mia colorazione in questo caso e in questo caso sono sempre avuto un ottimo riscontro nel senso che il colore per me va benissimo se volete essere più sicure per capire appunto magari tra le due un po più chiare un po più scure quale può essere più adatta piuttosto che avere la certezza che anche per il vostro punto di carnagione questo sistema funzioni fate una prova a casa cioè prima di fare il test con il prodotto nuovo che volete comprare mettete io ho il numero 51 del bourgeois e voglio comprare il fondotinta stick hd di make a forever quale colore è e ti esce quello guy file la prova con un altro fondotinta guy ti esce lo stesso colore e inizia a capire che questo sistema funziona benissimo anche per te quindi ribadisco io su internet ho fatto in questo modo quando esce un nuovo prodotto che mi piace che lo vuoi andare a vedere o a volte capita che sto in un negozio sono alla ricerca di un fondotinta lo sboccio non sono convinta faccio la stessa cosa cioè cerco sul modric foundation di tantalia la colorazione che mi consiglia il vantaggio secondo me enorme di poter perché poi qui allora ovviamente a parte che assolutamente non dovete fare il test all'interno del polso all'interno del gomito dietro l'orecchio qua qua quando cacchio lo prendete mai il sole mai nella vita ma neanche cioè ecco poi c'è chi ha un viso molto più chiaro rispetto al busto al collo al torace gente che invece ha un viso più scuro rispetto al collo al torace quindi anche lì dovete cercare un colore che si abbini soprattutto alla questione del collo e poi qui quindi non sempre facile andare struccati e controllare in più le luci dei negozi possono essere ingannevoli e i colori si possono ossidare quindi appena steso poi magari dopo mezz'ora che l'avete steso il colore diventa un pochino più chiaro un pochino più scuro ed è sempre un po un limbo una cosa che io faccio è portarmi dietro il fondotinta perfetto per me di un colore che è perfetto nel caso di questo qui di dream wonder nude questo è un pelo pelo più scuro un mezzo tono più scuro che non infastidisce però se vi devo dire che è il colore che ci azzecca di più quello che io prendo come colore zero non è questo qua ok io come colore zero generalmente porto lui più caldo porto lui perché alla confezione di plastica in borsa non mi pesa o porto anche lui anche se questo essendo un fondotinta con una corposità diversa sfumato cambia rispetto a fare il paragone con un fondotinta un punto punto un punto punto liquido quindi normalmente porto lui lui l'ho appena comprato quindi viene difficile lui a un barattolo in vetro quindi è più rischioso ne portate anche in un pot se non volete portato tutto quanto fondo le portate in un pot il fondotinta la boccetta di fondotinta che usate nel colore perfetto per voi lo provate su una mano lo portate sul collo ovviamente la questione pratica di provarla su sulla mano e mettere accanto il fondotinta che vi sembra più simile al vostro colorito e paragonarlo perché anche se le luci sono falsate sulla mano i due colori tecnicamente vengono falsati per lo stesso modo poi ovviamente è sempre consigliato uscire dal negozio e vedere il colore alla luce reale insomma queste sono cose abbastanza base anche lì magari non acquistate subito aspettate perché appena messi il colore è pressoché identico ma uno si può ossidare l'altro no quindi credo che sia tutto io normalmente faccio così se l'acquisto online e devo dire che i miei ultimi fondotinta sono acquistati online perché gli ultimi due che acquistati sono loro due prima ancora aveva acquistato questo qui però questo qui in realtà me l'ha acquistato ornella che era andata al cosmo alla truccheria io fisicamente non potevo esserci le dovevo dire il colore non nemmeno mai visti dal vivo e quindi mi sono avvalsa del foundation matrix dopodiché questo che l'ultimo acquisto che l'1.2 y di the ordinary l'ho acquistato usando il foundation matrix e anche lì prima che ho fatto nc 25 questo colore ho scelto questo colore l'ho fatto vedere che cosa mi veniva con il team mix e che cosa mi veniva con il tart questo perché anche nel caso di the ordinary fondamentalmente mi consigliava due colori questo è il tono più chiaro io ripeto ho imparato ormai che devo andare su tra i due toni quello che è un pochino più scuro anche perché non è che vevi di da un colore super mega chiaro e uno medio magari vi può dare tra le due toni di tal light la prima e la seconda l'ultima dei super chiari la prima del chiaro cose di questo tipo niente questo è quanto perché mi rendo conto che spesso non mi tenerò amiche tipo patrizia a cui è stata provata capita spesso che tuttora le commesse di alcune profumerie catene e negozi insistino nel provare il fondotinta nell'interno del polso capita forse ancora peggio che vi dicono ma mi do me ma prendi lo mezzo tono un tono più chiaro scuro così invece della terra ti tempo a decolore e cose simile e che obiettivamente soprattutto per l'appassionata di makeup come me che magari vogliamo provare brand che non sono acquistabili in negozi fisicamente quindi non si possono vedere fisicamente nei negozi è comodo poter fare un pochino più affidamento c'è un devi dare che arriva al fondotinta tutto stai lì che apri sta confezione con l'angoscia deve fare effetto un palumpo fa effetto super cadavere ecco o fa effetto donald trump e via dicendo niente spero di esservi stata utile se conoscete altri trucchetti consigli o cose da non fare assolutamente che pensate che siano utili invece non lo sono lasciate nei commenti ovviamente così che magari imparo qualcosa anche io perché voglio dimmi caso tutto ma assolutamente no sono proprio una piccola percentuale delle cose da sapere e soprattutto ci scambiamo consigli anche tra tutto il gruppo di noi voi che seguite me io vengo seguita o che vi seguo perché magari fate video vede blog e niente delirio finisce qui al prossimo video ciao